Giovedì 30 maggio a Bitonto, presso il Torrione Angioino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Luce Music Festival a Prodi Musicali, un progetto vincitore dell'avviso pubblico spettacolo dal vivo promosso dalla Regione Puglia. Un festival itinerante che attiva iniziative pluricentriche, portando eventi di musica live con artisti nazionali e internazionali su tutto il territorio regionale. I nomi di questo progetto durante quest'anno saranno quelli di Cosimo Damiano D'Amato, Violante Placido, Carl Brave, Antonello Venditti, Sergio Camariere, Salmo, Larim Bambel e Dario Vergassola. Luce Music Festival è un festival che contamina poesia, teatro, musica, cinema, tutto quello che c'è di bello, insomma, è quello che Dostoievski avrebbe detto, no? La bellezza ci salverà, la bellezza è nell'arte, nella cultura e questi festival come questo qua aprono veramente più che le porte, i porti. Questo è un festival che apre i porti e guarda con le braccia aperte tutto quello che viene dal mare. È un festival che si rivolge al mare e dentro ci sono grandi artisti che cercano di raccontarci delle belle storie. È un festival che comunque ti vuole anche trasmettere qualcosa in più, c'è una coscienza civile, uno sguardo civile. Ecco, ad esempio c'è un contest per dare un'occasione ai giovani di esibirsi su un palco, in questo caso di Salmo, oppure ci sono dei laboratori di fotografia, quindi è un festival che guarda veramente anche ai giovani, insomma, a dare questo strumento attraverso questo festival di poter esprimersi. Il primo appuntamento con il Luce Music Festival si è tenuto all'interno del torrione Angioino di Bitonto, con lettere spedite dal mare, con Violante Placido e Cosimo Damiano D'Amato, in un viaggio poetico struggente nella mitologia greca, attraverso l'epistolario tra le eroine e i loro uomini. Nel recital, liberamente ispirato dall'opera di Ovidio, rivivono, partendo dal corpo e dalla voce, gli eroi leggendari della Grecia classica, Penelope ed Ulisse, Paride ed Elena, Safo e Faone. Dei personaggi che ha fatto stasera, di cui ha recitato stasera, a quale si sente più vicino? Ma guarda, ci sono degli aspetti, in ognuna c'è un aspetto di me, sicuramente, perché poi l'amore è fatto di tante sfaccettature, non c'è solo un modo di viverlo, anche in base all'incontro, no? Vari incontri che si fanno nella vita, quindi c'è un po' di me e un po' in tutte. Ma quale è proprio più vicino vicino? Però, ecco, finora non mi sono suicidata, come sapo, ecco. Beh, scusa, rispondo io, io la vedo più vicina alla sirena cantata da Tim Buckley. No, comunque grazie a Cosimo che, insomma, sono stata poi madrina d'eccezione, nel senso che abbiamo fatto questa apertura insieme. E' stato bellissimo, emozionante, poi grazie a quello che lui è riuscito a costruire, con quello che comunque, per fortuna, ci hanno lasciato in eredità, questi insuperabili poeti e scrittori che ancora riescono a illuminarci, a farci emozionare. Poi i sentimenti sono senza tempo. Grazie.